Mariana Reni, tante conclusioni anche da parte tua in porta, però alla fine sembrava quasi stregata, al di là poi anche di qualche decisione arbitrale che lascia davvero la mare in bocca, così come il risultato finale. Il risultato lascia la mare in bocca, c'è il rammarico perché la prestazione c'è stata, però mi sento di dire che al di là della porta stregata, dell'arbitro, mi sento di dire che noi dobbiamo fare molto molto di più, perché una squadra che deve salvarsi non può andare in vantaggio 2-1 in 5-6 minuti, non so nemmeno quanti minuti erano passati, concedere un rigore e prendere il 3-2. Questa non è una squadra che deve salvarsi, una squadra che deve salvarsi solo 2-1 deve farsi ammazzare prima di prendere il rigore. Quindi al di là degli arbitri e di tutti gli altri dobbiamo farci noi un esame di coscienza. L'atmosfera degli spogliatori in questo momento com'è? Anche a livello di amalgama del gruppo è un discorso di test, è un discorso di fisico in questo momento? Siamo incazzati, è normale che siamo incazzati, perché io non penso che sia un discorso fisico, perché la squadra fino all'ultimo corre e prova a fare le cose. Purtroppo in certi momenti abbiamo delle amnesie che paghiamo caro, in questo momento non possiamo permettercelo e dobbiamo stare più attenti. Adesso ci aspetta l'ultima partita casalinga dell'anno solare, sarà una partita anche difficile a causa dell'assenza, tra Cherubin, squalifiche di Borghini e Codr diventa anche un po' complicato immaginare quella che vorrebbe essere la probabile formazione. In questo momento al di là di chi va in campo noi dobbiamo cercare di chiudere con una vittoria, perché a me dispiace anche perché questa squadra nelle ultime due partite ha dato veramente tutto quello che aveva, però purtroppo in questo momento non basta, dobbiamo fare di più. Domenica scorsa abbiamo preso un tiro, abbiamo preso gol. Oggi è il primo tempo, forse sono arrivato una volta in aria, ci hanno fatto gol, siamo andati in vantaggio, ci hanno ripreso e ci hanno sorpassato subito. Quindi vuol dire che quello che stiamo dando in questo momento non basta, dobbiamo dare di più. Grazie a tutti.